L'Auditorium del Lance dell'Aquila ha ospitato un approfondimento a tutto tondo sulla riforma del Terzo Settore, il testo che regola tutti gli enti no profit, dalle piccole organizzazioni alle reti nazionali, dalle cooperative sociali agli enti filantropici. L'incontro promosso dalla Fondazione Magna Carta ha visto protagonisti numerosi esperti in materia, professori, avvocati e ricercatori che hanno reso l'argomento accessibile a tutti, esplorandone i contenuti, le prospettive future e soprattutto le ricadute sul territorio. Gaetano Quagliariello, un nuovo incontro della Fondazione Magna Carta per parlare della riforma del Terzo Settore, per comprendere e per vedere sviluppi futuri anche? Sì, per comprendere innanzitutto i termini di questa riforma e poi da qui si parte per un'indagine sul no profit. No profit cosa vuol dire? Vuol dire volontariato e questa cosa ci riporta alla storia dell'Aquila, la storia recente, quella che ha suscitato tante energie dal basso grazie alle quali questa città è riuscita a riprendersi. E poi no profit vuol dire enti intermedi, corpi intermedi e per un territorio dell'interno, l'Aquila può essere considerata quasi la capitale delle aree interne, contare sui corpi intermedi è una cosa particolarmente importante, è uno di quegli strumenti attraverso i quali si può cercare di sconfiggere l'abbandono e la decadenza.